Ok, sono nella nuova comunità, mi trovo molto meglio perché ci sono molti meno criminali, delinquenti, ex criminali, ex delinquenti, mettetela come volete, tra rapinatori, killer, ex killer e altro. E qua c'è qualche disturbato, come si sa, perché comunque è una comunità psichiatrica, sto qua un mese e poi torno a casa, mi invento un bel festino da fare, tanto per non perdere il vizio. Che altro dire? Non lo so, Fabrizio da Milano non risponde al telefono da cinque giorni, dicono, quindi volevo portare un video con Fabri, ma non risponde, ha brugliato, quindi non si sa bene cosa succederà. Forse mi porterò uno condonato, ma devo sempre avere il supporto di Fabrizio Brugliato, di Filippo Brugliato, perché praticamente non ho il pc dietro e non riesco a montare i miei video se non comprogrammi con app gigantesche che occupano un sacco di megabyte i video e sono difficilissime da usare. E comunque mi trovo bene, sto meglio, sono al mare, c'è qualche problema anche qua, perché non lo metto in dubbio, ci sono problemi ovunque nelle comunità psichiatriche, però è tutta un'altra cosa, devo ammetterlo. Cioè, non ci sono più i bulli, non ci sono più le minacce, non ci sono più le grida, non ci sono più tante cose che là c'erano. Un saluto tutti dal vostro remuniscimento di quartiere e arrivederci e grazie.